musica dunque ragazze e ragazzi rieccoci qua su deadloop allora ripartiamo da dove ci eravamo lasciati io ho dato un'occhiata all'appartamento ma il codice personale a sto punto non lo trovo se c'è non lo vedo noi siamo colt e dobbiamo spezzare sto loop poi altro non sappiamo e aspettate che però ho visto ecco questo non l'avevamo letto e non l'avevo visto allora fratello mio scommetto che non te l'aspettavi ma Frank tiene i suoi amici non mi interessa se sei un soldato o cosa non posso vederti come un anziano mangia zuppa spiaggiato come se fosse il fottuto assedio di Avrilad il mio vecchio ci ha combattuto sai che storia amico si mangiavano le scarpe guardi il panorama capitano cento per cento vista platine tutta tua te la metti e come se te la metti qui sulla roccia sei sempre il benvenuto colt tuo Frank se dor se fa troppo casino procurati una bomba di pallonetto oltre la sua recensione amici che cazzo è Frank infatti abbiamo il cannone questa mi sembra vecchia come arma ecco teniamo magari questo no così abbiamo la sparachiodi questa che era la cos'è fucile a pompa se non sbaglio o no forse questo qua era scavapossi ah beh ma si dai stiamo così poi abbiamo la pistola va bene va bene allora dobbiamo andare qua c'è mappe non ce ne sono ecco c'è la zona del c'è la zona oddio la si dai il giorno ecco giorno notte eccetera sezione del giorno ok indizi visionari adesso dobbiamo andare nel complesso andiamo un po' qua mi avevano assalito tutti la c'è un tizio canna lungocca di falco mi aveva visto eh però io non posso uscire così però la sparachiodi non deve far rumore almeno proviamo ah ecco ok è morto esatto la sparachiodi è proprio un'arma senziosa ok abbiamo avuto conferma ha lasciato la sua arma che poi era ok no questo non è si è tipo la carabina ho capito mi sa eh qua abbiamo proiettili ok come no eh siamo morti una volta però abbiamo ancora una vita ok io cercherei di farla furtiva eh in generale se possibile d'ora in poi cioè tentare sempre un approccio furtivo e ragionato telefono pubblico ok devo andare lì faccio la strada che ho fatto la volta scorsa qui avevo ucciso tutti ah questi sono fuochi d'artificio aspetta non li tocco eh 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 no 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 non ci sta però però vedi quell'affare lì non è quello che causa il loop secondo me si dai sembra che mani e energia tanto il gioco ci ha detto che qua dobbiamo tornarci quindi va bene così quelle gallerie che corrono sotto l'intera isola si ci arriverò così al complesso ah questa porta qua ok vai si andiamocene ci deve poi essere un pulsante per spegnere questo incubo è ora di premere va beh ok ok un eternalista ti ha sparato e ha ucciso sì una volta siamo morti ok piastrine ottenute una ok ah ecco va l'isola dall'alto e vedi che è la roba lì i distretti di Blackreef cambiano nel corso della giornata qui puoi controllare opportunità e segreti scoperti in questo distretto in questo momento della giornata puoi anche scoprire cosa di più sugli eventuali visionari vulnerabili che frequentano la zona seleziona un obiettivo con l'icona diamante per tenerne traccia come un indicatore eh ah ma meno che scusa dotazione scegli qui ho capito ecco perché no mi ero un attimo perso alla fine dell'episodio scorso cioè tu non puoi cambiarti le cose in corso nel livello diciamo lo puoi fare prima cioè sì prima di entrarci in un livello capito scegli qui la tua dotazione tra le armi tavolette e piastrine ottenute le armi sono sulla sinistra mentre dispositivi e tavolette sulla destra sì seleziona un'arma e una tavoletta e premissima per maggiori informazioni sull'oggetto per potenziarlo con le piastrine per scambiare un'arma o una tavoletta con qualcos'altro seleziona per vedere altri elementi da te trovati colt non può riporre ripresa il suo macete le cariche o l'hack marging selezionando colt puoi anche modificare il suo aspetto applicando gli stili che ha ottenuto ma vediamo un attimo adesso abbiamo il doppio salto muro di pietra infiggi danni ridotti ma ne subisci di meno ah bah beh ma io penso che un attacco di macete sia pur sempre un attacco di macete nel senso abbastanza letale però però non lo so, non so se metterlo o meno poi cosa abbiamo? aspetta chiodo iper e queste due sono di qualità superiore e io faccio così qui trovi informazioni sulle funzionalità specificiche del tuo equipaggiamento equipaggio le nuove piastrine per le tue armi se vado da vicino usando i comandi indicati sullo schermo per ingannire e ruotare l' equipaggiamento nessuna piastrina equipaggiata ma non ne ho neanche è infatti 0 no 0 2 assegnate munizioni di chiari magari non ne ho proprio non ne ho proprio no le armi cioè questa per esempio è fatta bene cioè esteticamente è anche riprodotta bene magari le altre un po' meno scegli un'arma o una tavoletta per equipaggiare quelle un po' scadenti ok no ma io volevo aspetta aspetta non ho piastrine non ho piastrine non ho piastrine no ma così va bene quindi noi possiamo anche da colt che possiamo cambiare se volendo va bene va bene va bene va bene sto facendo prove almeno nessun oggetto equipaggiato qua abbiamo la carica tagli va bene va bene no ma si dubbio rimane ma non penso di metterlo va bene così va bene così teniamo solo molle tonanti ok il complesso a mezzogiorno elementi migliori di black leaf non importano le tempeste nuvoloni affini è solo una questione di dati va bene spora complesso ah devo tenere premuto cioè strutturato è un gioco strutturato ad aree e appunto è al passaggio di area tu puoi decidere l'equipaggiamento ma e non durante l'area cercherò di ricordarmelo mi hai piaciuto quell'appartamento e a quanto pare neanche a te come mai mi contatterai così ogni volta giuli giuli anna non me ne frega un cazzo di come ti piace essere chiamata ti fregava prima sai eravamo amici colt non ti pare ah è per questo che hai detto a tutti di uccidermi ma con te ci parlo soltanto io come la mettiamo colt che esco con la gente sbagliata ok centro di controllo spegnere centro di controllo del loop abbiamo di nuovo due tutte le vite operative va bene come ci era stato detto infatti questo cosa cazzo è un'anomalia non so niente tieni giù la testa ah e si vedi va che siamo ok aspetta un attimo fa vedere di qua qui è un'altra l'altra parte meno diretta forse il percorso segnato sull'indicatore non è l'unica via per l'obiettivo si ok abbiamo capito da questa parte colt da è esploso qualcosa assortante tonante o rallenta giù in basso non è che mi avevano preparato una trappola basta va e noi l'abbiamo evitata aspetta non l'avevo visto spadaccino alla strada pensa oggi non succederà niente aspetta ma che forza abbiamo lasciato il macete aspetta un attimo muovi e ti resta il caldo corre e spara ancora ancora ok ok ce ne è più di uno da vicino ispirante macellaio devo andare qua giù vediamo se io rompesse se non è si può rompere ah ce ne è una sono in quattro dotazione base dotazione base ah quello lì secondo me è impegnato sempre lì qua attenzione questo qua fa avanti e indietro ah io provo a romperlo proviamo a romperlo ok eh beh sei un po' stupidotta c'è ok allora fammi vedere adesso si muove questa pensavo che veniva su ehm come posso non posso avanti dentro se eh no qui mi guardano dovrei distrarli però fa vedere se qua c'è qualcosa mmm no eh non mi ha visto pensavo che mi vedea aspetta e ci proviamo intanto fuori uno e ha lasciato due armi ok questo si muove anzi questa si muove ma questa poi si ci dovrebbe girare credo vorrei evitare di usare appunto cioè vorrei proprio fare un approccio corpo a corpo silenzioso un po' per tutto il gioco adesso vediamo come che situazioni si pareranno davanti a noi ma ecco se posso se riesco vorrei andare in corpo a corpo uccidere in corpo a corpo e stop ok no 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 uuuuuh ci è mancato poco ecco questo è proprio qui vediamo questa qui com'è che si metteva eh però quella lì in teoria dovrebbe vedermi se i calassi su di lui sbircia 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 intanto oggi non avevo voglia di meditare ah oppure 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 no ho un'altra idea aspetta ho un'altra idea forse migliore però se fa rumore non saprei ora quando questa qua con i cappelli è rosa ah qui ci sono sono già al massimo ah qui ci sono delle ah ci sono delle bottiglie ok o mi calo da qua però cioè mi butto e la prendo al volo dammi la bottiglia va facciamo facciamo così ah ho tirato quello la ok ok oh oh vai vabbè dai è andata bene sommato oh questo piastrina personale grezza questo aveva una piastrina questo possiamo anche lasciare questa roba no come quegli altri oggetti qua è pieno di vita parolettoni ok cos'è a ore? dietro di te ore? sennò non c'è più nessuno ah ma tu dici l'entra si 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 ok ok avanti e dentro ma questo? devo andare di qua ma... no aspetta vediamo qui forse occhio agli allarmi ecco eh ma gli allarmi buh levo inattiva nessuna alimentazione sembra che non abbia corrente cioè gli allarmi quali sono l'ho disattivato no a posto qua no niente da leggere pensate di conoscere Blackreef lo sapevate? il programma Iron ambisce a migliorare le potenzialità e l'illuminazione umane fondato da Wengie Evans Igor Serling e Harriet Morse ok devo andare di lì ma provo ad andare di qua Power Station all'attenzione di tutti chiedete questo posto e non apritelo mai più non mi frega un cazzo dell'ossessione di Wengie per Horizon se Colt entra qui la festa è finita non volete tornare indietro vero? la stazione resta chiusa Julianna Blake Julianna la vuole chiusa ciò vuol dire che l'apro infatti non vuole che entri nell'azione dell'initica questo significa che c'è qualcosa che io non devo vedere c'è anche la stazione dell'initica sotto al centro del controllo del loop ma è tipo una mission indizio aspetta mi devo muovere così ok vabbè vabbè non vuole ok vabbè però qua serve la corrente la corrente c'è un cavo va a vedere arriva qua si apre a distanza si apre a distanza si apre a distanza la corrente ma va a vedere boh proviamo a andare di qua fuori controllo fuori controllo fuori controllo aspetta aspetta quello è rosso guardingo inconsapevole attraverso attenzione base consapevole ma forse questi qua rossi appunto sono un po' più attenti non so vediamo ma intanto ammazzarli ok aveva il cannone siamo tutti da maschera ok leva allettante eh ma leva allettante io non la tirerei perchè è proprio allettante eh eh aspetta ma ma non è che questi sono all'arma non so non andiamoci sopra va fatemi prima di tirare la leva allettante qua c'è una telecamera c'è una telecamera no capire se c'è un modo per beh questo era un altro accesso al complesso se c'è un modo per attivare quella porta qua c'è un po' batteria lascia si una batteria l'avevo già presa ma non stavo registrando mi ha detto che alcune armi vanno ricaricate se non ricordo male ma non è il nostro caso qua c'è un'altra che è un altro accesso da questo lato no ma qua abbiamo liberato volevo solo capire forse nessuno si può fare che in fondo siamo proprio ancora all'inizio ah chiodi va si confondono con l'ambiente comunque certe cose vabbè che sono fatte bene eh porta è chiusa no vabbè tiriamo sta leva tiriamo sta leva servirà qualcosa di importante si magari suonare l'allarme ma cosa stiamo scherzando vero quindi devo trovare una cazzo di batteria per questo coso è qua e attiva il dispositivo ah batteria inserisci ah si carica ah e la metto qua eeeh aspetta ma qua non c'è io sono sempre fissato con sta porta ma non è che c'è per caso una batteria da mettere allora in un dato punto no non vedo non vedo magari non qui magari è da tutt'altra parte magari è qua dentro non so vabbè no niente a posto ok 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 alimentazione vediamo che sai fare lui conosce cose lui conosce cose non il credito che merita benvenuti benvenuti ai giornalisti sono Igor Sirling vi siete mai chiesti come funziona l'amato loop temporale il tempo fa sull'isola di Black Reef vi fu un cataclisma che sconvolse lo spazio e il tempo lo chiamammo l'anomalia fondai il programma Gion con i visionari per proteggere e studiare gli squilibri eterici di questo fenomeno e eeeh voi dovete proteggere e studiare noi i visionari seguite i tre principi se il loop viene minacciato osservate il bcl pcl oh merda hai già finito il nastro eeeh il pcl è l'ufficio della sicurezza Tristad Rock informare il capo della sicurezza e lui vi dirà come usare il pcl per proteggere il loop pcl suona potente potrebbe fare danni yeah e pcl sia il compresso ha trovato quello che ti serviva puoi sparare ancora o poi digitare l'uscita avrai tempo di tornare qui in seguito ma secondo me se adesso dobbiamo seguire quello che ci dice lui il gioco perchè siamo ancora all'inizio secondo me la missione questa che stiamo facendo eeeh aspetta eeeh vabbè questa missione che stiamo facendo eeeh è ancora il prologo quindi magari io farei quello che dice lui piuttosto che girare così a due il zonzo a caso magari anche senza eventuali poteri che ci permettono di andare guarda che sto guardando è in basso lì però lì in basso c'è un magari magari aspetta uscendo anziché da dove siamo entrati che ne so da qui anche se però qua aspetta aspetta eeeh no eh ma sta aperto fino adesso ho fatto il posto guarda aspetta ah ok è amica adesso ma è amica temporale torretta balistica hm eeeh boh schiera ok no volevo vedere se magari che ne so da qui in basso si entra no qua no qua è tutto chiuso no allora delizia dell'hacker qua però c'è la gente eh là c'è qualcuno nessuno a casa dependance da volatorio manovella vuol dire giriamo cose manovella inserisci cos'è cari ricercatori per quanto la curiosità sia vigorosa in voi non toccate questa manovella né accedete alla camera di contenimento il residuo generato se all'interno si disperde in fretta perfino se è toccato in un contenitore adeguato io qualcuno molto simile a me verrà poco dopo mezzogiorno a garantire la sicurezza del materiale per il trasporto dell'impianto di raffinazione del mio laboratorio ma io l'avevo toccata la manovella poi ci sono cose se un po' luminose qui non c'è niente della vita cui non abbiamo bisogno cos'è il porto chiusa eh cos'è il porto chiusa vabbè eh per la porto via la manovella però lascio lì lascio lì per terra vabbè niente visto che siamo qua fa freddo eh però ok ok possiamo però resistere qualche secondo no aia no troppo rischioso troppo rischioso no non pensavo quindi non sa nuotare vabbè ok allora niente no prima di perdere tutto eh direi che esco dove sono entrato ok ok uscita beh teoricamente qua ma qua non c'è nessuno c'era solo un tizio ah qua va che la strada o che è nel ghiaccio ok ok eh sempre il solito codice sì andiamocene ok è nell'ufficio della sequenza perciò è una cosa che sicuramente va tenuta al sicuro si è annegato si vabbè eh abbiamo ottenuto qualche informazione Giovanna non vuole che entro nella stazione energetica sì va bene ok ah la specie di capsula verde di Wenji contiene tecnologia di creazione per le piastrine ma anche una fiaschetta di puro residuo nella sala di controllo va bene vabbè ok la sal... Dio alla morte la salute massima leggermente aumentata sei qui per restare ah mi colavo neanche più che l'avevo preso ok ispezione dell'ufficio della sicurezza indizi visionari indizi sono le informazioni più importanti su Blackleaf la chiave per sconfiggere i visionari e spezzare il loop ogni indizio fornisce istruzioni che ti aiutano a neutralizzare i nemici colt conserva le scoperte relative agli indizi tra i vari loop selezionando un indizio attivi gli indicatori che ti guidano verso l'obiettivo e forniscono tutte le consigne e la scala di selezione delle missioni ispezione dell'ufficio di sicurezza va bene supercarvi la conoscenza e potere col si ricorda di tutto quello che scopri sull'isola e queste scoperte sono annotate qui le scoperte sono organizzate in momenti della giornata e distretti a essere relative seleziona una scoperta indicata da un'icona al diamante per attivare un indicatore in gioco ti aiuta a individuare l'oggetto della scoperta la scoperta è relativa al modo in cui spezzare il loop al ritrovamento di occupaggiamento speciale a fare il fordimento al menù degli indizi sui visionari a quali indizi sull'assegna eh sì, l'avevo letto prima una fiaschetta di polis 2 e sala di controllo va bene qui puoi consultare i documenti che è scoperto gli appunti sono pagine di testa trovate sull'isola le trascrizioni audio includono registrazioni di vari abitanti di Blackreef i registri minicom contengono numerose comunicazioni informali tra i responsabili del programma E.ON i profili E.ON sono colloqui con i visionari gestiti dall'archivista del programma E.ON Julian Blake va bene ok io direi pomeriggio fistad rock dotazione questo lo mettiamo assoluta massima leggermente aumentata ok il resto lo lasciamo uguale qui non ho nulla qui non ho nulla va va a vedere se qua posso o no non c'ho niente per quest'arma nemmeno per questa va bene spara fistad rock spara fistad rock con le battute so come vestirmi bene e perchè cazzo indossano le maschere non hai menzionato il tuo ma coso ci arriverai Akamajig basta giocare in modo tuo adesso è il mio show ok in carrozza bobo su su ho detto show il mio show fanculo fermata ufficio sicurezza ciu ciu vabbè ok io guardo da altre parti come sempre usciamo di qua qua fa freddo ci vuole la giacca ok ufficio della sicurezza non vedo nessuno qualche oggetto un po' anomalo qui ah vedi qua banti ma e niente rimane chiusa vabbè suonato eh stato educato qua c'è un cavo cos'è cos'è? ah la bottiglia ok attenzione ma devo andare forse di qua non penso però da vicino consapevole ah non pensavo che stava muovendo però se lui va impegnato ok l'arma la lasciamo qui non ha piastrine o robe varie bottiglia bottiglia c'è una maschera ah devo andare lì ok intesa che guarda qualcosa eh qua c'è un ci sono un paio ci sono un paio di persone che guardano tutte di qua secondo me non è consigliabile anche se di qua è la via più diretta quasi paradiso secondo me secondo me conviene ammazzarli vizio aspetta però non posso avvicinarmi ah lì c'è anche il ghiaccio pericoloso c'è anche qua c'è anche qua però le strade ci sono un po' le in metà da là dietro magari dovrei provare ho appena sti qua ha smesso di obbraccare magari ok 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 urca però qua è un po' alto mmm non so se riesco a evitarlo eh vai 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 che ok vabbè 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 quanta vita ha scusa vabbè ci ha provato spice ha lasciato l'edificio frank non c'è sbircia sbircia andrei di qua accogli con un sorriso accogli con un sorriso ah 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 guarda la posso sono troppo distante no si l'ho preso forse non saprei ma va che si è girato no secondo me sono troppo distante aspetta eh cavolo no devo hackerare la torretta dai vediamo se ci riesco mi avvicino ok dai 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 hackerata molto bene ci pensa lei eh avete un mal funzionamento nei sistemi signore ok questo ho lasciato ok capo della sicurezza aspetta col van a capo della sicurezza eravamo il capo della sicurezza ma che cazzo mi sa eh che è a sbircia non esistono non esistono chiavi le porte chiusi se appena un termine di dispositivo nelle vicinanze tipo il campanello no? cioè il vetro non ostacola la ah se una cosa riesci a vedere significa che puoi violarla ma mister ok pcl dove il pcl scava fossi quello di qualità superiore no ma questo è il fucile a pompa questa non è ancora usata questa qui ho 25 colpi di questa questa 20 questo qua è un fucile a pompa sì ed allora teniamo questo va così abbiamo tre armi di qualità qualità dov'è la cassaforte capitano mio capitano col mio col la tua cassaforte è qui che si sposta di là ed ecco fatto la cassaforte nel tuo appartamento dupe dam ma miss mina mi ha detto che hai lasciato la combinazione la combinazione è un invito tutti tutti sanno quei numeri che sono 5 4 1 e 4 e lì se lì è perfino se lì è perfino attuati sopra il capezzolino sinistro della combinazione per il suo cuore forse dovresti cambiarla numero qui uno la rinnovamento oppure no fai come vuoi ma che cazzo ha scritto sta roba splash tante care cose fia zavosca suprema badessa della roccia ps eh quel tuo pcl è davvero interessante la tua mente è una meraviglia minore che gli altri pensino pure quello che vuoi su break riconoscere significa andare avanti spesso dovrai tornare in un posto dopo aver ottenuto nuove informazioni ora che hai trovato la combinazione della tua cassaforte ad esempio puoi tornare al tuo appartamento di ucudam e aprirla ah ecco via la cassaforte la combinazione non era lì era qua aspetta un momento io ho fatto il pcl il che significa che è a casa mia in quella cazzo di abdam ecco 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 il nome della missione non mi veniva secondo me questa missione qua è proprio tutta la missione del prologo quindi conviene seguirla torretta balistica facciamo schiera ah guarda guarda adesso gli spara ecco molto bene molto bene quindi adesso da qui uh da qui possiamo anche tornare uccidi qui c'era ah no niente c'era ah no niente certo devo tornare indietro aspetta qui l'ho fatta giù di lì la strada aspetta mi pare almeno ah guarda lì c'è uno 16 codici non lo sappiamo qui ci sono delle cure aspetta qua dietro meglio senza troppo rumore eh vabbè un'altra zona no vabbè come ho detto no adesso seguiamo seguiamo le nostre indicazioni qua 7 6 5 no no 7 6 5 4 ok quanto pare eri un pezzo grosso di Black Reef peccato che questo ti rende una preda più allettante sei sopravvissuto? eh sì non sono mai morto in questo caso beh un cosco di consegne sotto l'elone pannello emo vicino la galleria del ok freestyle rock va bene ecco paggiamento ottenuto si è fatta notte praticamente apre la cassaforte scusa ma qua ti spoilerà già magari le zone del gioco cioè il complesso freestyle rock up dam up dam e baia di carl forse sono l'uniche zone del gioco boh non saprei va bene comunque ehm dotazione direi che sto anche così tutto va bene ehm torniamo ad up dam il nostro appartamento un po' buio Giuliana Giuliana ci sei? ma perché la chiamiamo? Giuliana mi sono ricordato il tuo nome mmm va bene boh non ho capito sto cioè il rapporto strano ma non lo so ma vabbè comunque il ser up dam è più pericolosa via che in precedenza erano sicure potrebbero essere inaccessibili eccetera eccetera aspetta andiamo di qua qui per festeggiare state bruricanti di notte aspetta per il nostro appartamento non ero venuto di qua attimo ero andato di qua però qui abbiamo abbiamo le trappole non posso disattivarlo no con l'affare no allora di qua non è sicuro qua non è sicuro mmm ah questo è andati via candy bar forse è un'altra strada buona sera signore e signori da frank chan chan il sole che era fracido sulle scoglieri black reef alla nostra della vigna sono certo finita volcete lo sguardo alla bagna nooo merda via eh casino vieni qua ora è il tuo turno aspetta e vabbè proviamo ecco è morto bene ora è il tuo turno come è a posto eh perché prima pensavo di essere a portata invece invece no ok ok riteniamo questa comunque l'area di allerta è un po' limitata non è che tutti vanno nel panico ok ma di notte non la riconoscevo sta zona eh cioè andiamo di qua ma proprio no beh ok pochi d'artificio questo da vicino pensa che non gli succederà niente invece pensa male corre e spara intesa che accada qualcosa di là non c'è nessuno e vediamo se adesso salto gli piombo addosso ok trai anche che devo pennellare in corsa no aspetta ok qualche altro oiii prego 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 vediamo venite venite ok no posto sì le fasi di allerta durano veramente poco si possono chiamare fasi di allerta comunque allora ero andato di qua ero andato vediamo 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 cosa che c'è scritto occhio agli allarmi io li hackero le torrette eeeh così fanno il lavoro al posto mio ok sento dei passi eh la torretta non vede nessuno dai segnale violabile causa distrazione vediamo c'è la torretta lì vicino come se ne occuperà qualcun altro si si vede anche se non ti vedo immagino ok forse quello sta avvenendo ok dai passerà di qui dai aspetta va ma perchè non si distrae questo scusa eh ma perchè non si distrae vabbè io vado eh rifornimento chiariamo quella io vado su di qua rifornimento lì c'è della vita poi vai non lo so io ho questo però era troppo irresistibile aspetta mi piace troppo cadere dall'alto ahahah un disonore dove lo facevo spesso petardo ah oddio ma ecco c'è un appartamento qua eh chi l'ha l'ha visto con pulsante collegato a cosa a sta sedia bb vabbè avremo a caso bb vabbè potrebbe essere violata cosa amava il panorama amava il panorama cassaforte ah ma qui c'è una torretta no no cos'è scusa a dove questa roba qua non so ne cos'è e poi non è interagibile aspetta un attimo questo cavo porta lì bb non so vabbè andiamo alla cassaforte segnale ok violabile casa distrazione ok ma che posso quadro con qualcosa di anomalo la cassaforte è aperta eh oh madonna insegnamenti di vita ehi ehi ho preso il tuo prezioso pcl sono troppo intelligente veloce e potente e tu sei lento e noioso come sempre pace è solo che sono un po' delusa so che puoi fare di meglio in alternativa puoi andare a farti fottere sì tu con affetto Giuliana ah Giuliana non mi chiami tu ti chiamo io dovegno pcl non ho finito è il mio show non il tuo tiro io la baracca vuoi chiudere? passa prima da me cos'è questo? avvicendamento professionale la sicurezza protegge il loop il contrario di quello che stai facendo tu fico allora faccio quello che facevi tu che cos'era? scrivere cazzate per un branco di decerebrati e io non... qualcuno è passato a salutare non ho ancora finito ho chiuso le porte così potete conoscervi quali porte? nelle gallerie progettazione impeccabile tutto grazie al gran capitano aspetta merda che cazzo? chiudere le gallerie? e allora io le apro invasione di Giuliana Giuliana potrebbe entrare in un distretto per darti la caccia quando Giuliana invade il tuo mondo le uscite delle gallerie sono bloccate sbloccale violando l'antenna radio locale puoi inoltre affrontare Giuliana e le pistine delle tue riprese sconfiggendola Giuliana invade il sole distretto in cui è presente un visionario e può essere invaso solo un numero limitato di volte per loop ma Giuliana ehm ehm ah è cosa che volevo violare aspetta ma Giuliana è comandata da un giocatore ehm sempre tavolette Giuliana e molti dei visionari hanno con sé tavolette che forniscono abilità soprannaturale puoi usare le loro tavolette ma prima dovrai recuperare le loro cadaveri le tavolette si equipaggiano nella mano secondaria premi su per passare nella segna delle tavolette tieni premuto su per aprire una ruota dedicata alle tavolette che hai con te ok ogni tavoletta serva è di potere rappresentato dalla barra blu nell'angolo dello schermo ogni tavoletta può essere potenziata più volte recuperando nuovamente dal visionario che la porta con sé quindi mi dicono questa è la viola ok vado dov'è aspetta aia è già qua eh non ho molta vita aspetta aspetta ah ha presa ah ah dov'è la tua carnecosa ora ah 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 eh fantastico ok gioia in abilità pazzesca saccheggia i suoi resti per cercare una tavoletta eh è quello che stavo cercando di fare ma non vedo niente io ah qua forse sono cadute traslazione oh potenziale abilità è traslazione che paglia la prima lb per teletrasportare nella zona in cui si è rivolto sì l'ha presa pari pae da dishonored ovviamente vediamo aspetta sì eh sì e ah si ricarica ah il segmento ok ma aspetta che faccio le mie prove ah ma qui c'è la della vita che stupido io ho così concentrato sulla missione eh le vite sono sparse in giro ci saranno anche nell'appartamento ma aspetta eh vabbè vabbè tanto sempre la vita la mia solita vita la uso sempre eh li faccio così così ah ok 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 scusa così vabbè vabbè andiamo all'uscita va facendo così ah il cadavere è se ah è il nostro questo è il nostro cadavere eh eh facciamo il percorso ok uguale la prima questo ah no una fiaschetta strana va bene io faccio così per fare un po' prima andiamo eh ma non riesco non si capisce aspetta no non ci arrivo mi sa vabbè faccio così no qua cado così ok codice lo conosciamo ok uh 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 c'era uno no aspetta ok ok uscita molto bene molto bene questo lupo sta per finire lasciando di stato passare al mattino successivo ricordare detto quello che ho imparato vai dammi il tempo di leggere però ok 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 in quella manica giuliana parecchi assi che assi un loop che finisce un dopo sborni a balneare che comincia andiamo a giuliana è morta te ne sei andato giuliana no ecco eh va bene Torna un frugato nella mia cassaforte Peccato per lei che domani mattina toccherà a me Ok, thanks by the focchier artificio ogni sera Ok, traslazione ottenuta Ottimo Hai superato la giornata Inizia un nuovo giorno Bene, cassaforte, PCL Arrivare alla cassaforte prima di lei E poi il PCL Un'arma magari Ma che cazzo Non ho più armi Ma scusa, non le avevo guadagnate Forse adesso le troviamo Uscita Vai Colt, vai, sì Va bene